A livello di bonus, signori, si comincia a parlare di un bonus reddito energetico per questo 2023 che diventa piano piano realtà, quindi cerchiamo di immergerci in questa novità. Si intende infatti degli incentivi per poter realizzare impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratina ha infatti firmato il decreto per l'operatività del Fondo Nazionale per il Reddito Energetico. In tutto sono 200 milioni di euro di risorse in campo, con le agevolazioni destinate alle famiglie che rispettano determinate soglie ISEE. Il testo è ora in mano alla Corte dei Conti per la registrazione. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura. I fondi sono riservati a chi ha un ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 con almeno 4 figli a carico. Tutti gli impianti fotovoltaici per le unità residenziali devono avere una potenza nominale che deve essere superiore ai 2 kW e inferiore ai 6, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. Gli impianti devono poi essere realizzati su coperture e superfici, aree e pertinenze di cui il beneficiario è titolare. Accanto ai requisiti che servono per beneficiare del Reddito Energetico 2023, ci sono anche vie prioritarie di accesso agli incentivi per l'energia rinnovabile. Le risorse, infatti, dovranno andare per elle l'80% alle regioni del sud. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il fondo è di natura rotativa e mette i 200 milioni a disposizione per le annualità 2024-2025. La dotazione, in ogni caso, potrà crescere ulteriormente. Sono infatti ammessi versamenti volontari da parte di ogni amministrazione centrale, ma anche regioni, province, organizzazioni pubbliche e le varie realtà no profit che animano il paese. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.